Il settimo successo in classifica per il Ligata Calcio, la squadra di Cammanella ha infatti vinto contro il Mussomeli per 3-0. I ragazzi gialloblu già alla fine del primo tempo erano in vantaggio con il calcio di rigore di Convitto. Alla ripresa della seconda parte del match il Ligata raddoppia al cinquantesimo con Leandro Rizzo. Alla sessantottesima Ondonio Cannavò realizza il terzo meraviglioso gol. Dopo dieci minuti Convitto prova a mettere dentro il quarto gol ma il pallone va sulla traversa. I gialloblu sono di fatto in betta nella classifica del Girone A di eccellenza. Sono questi i risultati delle ultime partite del Girone A di eccellenza Sicilia. Cus Palermo Profavara 0-0 Partina Caudace Sport Club Marsala 0-1 Città di Sant'Agata 0-0 Condro il Parmobal Alba Alcamo Geraci 0-0 Canicattì Nuova Città di Caccamo 6-0 Mazzara Calcio Dattilo Noir 2-3 Ecco invece la classifica. Al primo posto il Ligata Calcio con 30 punti. Al secondo posto il Canicattì con 26 punti. A seguire al terzo posto il Città di Sant'Agata con 23 punti. Al quarto posto il Mazzara Calcio con 19 punti. Al quinto posto il Parmobal con 18 punti. Al sesto posto Alba Alcamo con 18 punti. Al settimo posto il Dattilo Noir con 17 punti. All'ottavo posto il Giraci con 15 punti. Al nono posto lo Sport Club Marsala con 14 punti. A seguire il Mussomeli con 14 punti. Poi il Cus Palermo con 11 punti. Il Castellalmare Calcio 94 con 11 punti. Il Profavara 9 punti. Il Partina Caudace con 8 punti. Il Nuova Città di Caccamo con 4 punti. Il Polisportiva Castelbuono infine con 2 punti. Il Novo Città di Caccamo con 24 punti.